giornata del Festival Altri Mondi e Altri Modi e siamo molto felici di avere l'occasione di confrontarci su questi temi proprio appunto in conclusione di questo festival che nasceva un po' dalla necessità di confrontarsi tutti insieme per provare a costruirsi degli strumenti all'altezza di questa fase che presenta delle contraddizioni e una complessità particolarmente intensa anche visti gli ultimi avvenimenti che hanno comunque sconvolto a livello epocale diciamo l'esistente e quindi appunto il festival nasce proprio nell'ottica di fare anche attraversare questo spazio proprio come un luogo in cui potersi confrontare e potersi anche porre all'altezza del presente per chi diciamo si pone un po' l'obiettivo di voler lottare insieme per poterlo cambiare questo presente e infatti siamo appunto anche qua insieme al movimento Notav e ad altre lotte territoriali che all'interno della nostra città si pongono appunto l'obiettivo di andare a incidere rispetto ad una serie di contraddizioni e che diventano appunto centrali in un'epoca in cui la questione ecologica, la questione della difesa dei territori, della tutela dei territori di chi li abita diventa centrale appunto. Diventa centrale anche la difesa e il mantenere diciamo quegli spazi appunto di confronto aggregazione e anche possibilità di lotta e infatti il festival si inserisce anche all'interno di un attacco generalizzato nei confronti del centro sociale della scatassuna ma non soltanto, soprattutto appunto un attacco che vede il movimento Notav come un esempio di lotta popolare che in qualche modo negli ultimi tempi appunto sta venendo colpito da una serie di misure repressive e che vanno appunto nella direzione di voler silenziare un'esperienza decennale di lotte che appunto diventa ancora più preziosa in questa fase. Niente, quindi per collegarci un po' rispetto alle tematiche di questa tavola rotonda mi collego anche a quello che è stato un po' il dibattito, la presentazione precedente che appunto partiva dall'analisi del cemento come materiale e come strumento in qualche modo del capitalismo e come anche causa di ingiustizia sociale. E' un materiale che in qualche modo oggi, come veniva detto, è prevalente nell'architettura ed è anche emblematico della logica di produzione del sistema capitalista, quindi con tutte le sue caratteristiche di obsolescenza, deperibilità che però di fatto permettono un ciclo continuo di accumulazione di profitto. e in questo senso appunto nonostante anche la conclamata deindustrializzazione nell'epoca appunto della transizione ecologica, comunque continua ad essere un materiale diffuso e utilizzato e che chiaramente è qualcosa che va, come dire, l'elemento anche qua comune un po' a tutte le esperienze che oggi sono qui appunto a portare il loro contributo. Appunto l'idea della tavola rotonda di oggi è quello di portare appunto a confronto diverse esperienze di chi appunto si pone l'obiettivo invece di andare contro questa tendenza e di tutelare appunto i territori e chi insomma vorrebbe costruire insieme una vita più sostenibile e più equa. in questo senso chiaramente per noi l'esempio della lotta notav è emblematica in questo senso perché si tratta di un movimento che chiaramente parte dal lottare contro una grande opera inutile ma che di fatto si pone la necessità anche di portare nel dibattito pubblico una serie di contraddizioni che poi sono legate appunto a queste opere che quindi riguardano la crisi ambientale e climatica, che riguardano la tutela della salute che riguardano appunto la possibilità di un vivere migliore e in questo senso oggi vorremmo anche andare ad analizzare e portare diciamo all'ordine del giorno quelle che sono tutte le altre piccole opere che appunto sono di attualità in questo momento e che sono collegate al TAV quindi pensiamo alla cava di Casellette, pensiamo a Salbertrand, pensiamo all'autoporto di San Didero e pensiamo anche a quei progetti come lo Schidom che vorrebbe essere realizzato a Cesana che riguarda appunto invece quella tendenza di andare a devastare i territori appunto nell'ottica di un profitto e che appunto riguarda in questo caso territori montani che subiscono anche attraversano una crisi come dire sociale anche generalizzata e poi andremo anche a parlare invece di quelli che sono i cambiamenti progetti che nella nostra città sono in previsione che anche in questo senso si inseriscono sempre nello stesso quadro quindi nell'ottica di continuare questo processo di cementificazione, di chiusura degli spazi e pensiamo appunto al progetto che andrebbe a cancellare in qualche modo a distruggere tutto l'ecosistema del Parco del Meisino e pensiamo a tutti quei progetti appunto che vengono dipinti in qualche modo anche con una patina green ed ecologica quando di fatto non è così quindi appunto un po' il filo conduttore di questa tavola rotonda è proprio andare a sollevare quello che è un po' il nodo principale e che è un po' filo conduttore in tutte queste opere ossia l'incapacità da parte di chi dovrebbe gestire i territori l'incapacità e la non volontà in qualche modo di andarli a gestirli a gestire e a organizzarli in una maniera tale per cui dovrebbe tenere in conto perlomeno tutto quello che riguarda e che implica il cambiamento climatico in atto e quindi appunto in questo senso vorremmo andare anche a svelare in qualche modo quelle che sono le narrazioni appunto di una transizione ecologica che però di fatto viene scaricata anche verso il basso e che in qualche modo diventa anche giustificazione poi per continuare appunto in questo processo chiaramente di produzione di consumo dei territori per ottenere profitto e detto questo è chiaro che pensiamo che per quanto ci possano essere degli aggiustamenti o delle attenzioni che si possono fare per andare invece in una direzione differente è chiaro che alla base di tutto per poter in qualche modo cambiare questo processo occorre ripensare totalmente radicalmente il sistema appunto di produzione di consumo in questa fase e niente quindi questo un po' per introdurre le varie tematiche della tavola rotonda in primo luogo passerei la parola a Roberto Mezzalama in quanto autore del clima che cambia l'Italia che è appunto un libro di recente pubblicazione e che ci farà un po' un quadro di quelle che sono già le conseguenze in atto del cambiamento climatico nei diversi settori produttivi e di chi si ritrova appunto già a vederle sulla propria pelle le conseguenze del cambiamento climatico in modo tale da avere un quadro, una panoramica generale per poi andare ad analizzare i vari progetti i vari contributi degli ospiti a partire poi in realtà da due spunti principali ossia da un lato quelle che sono lo spreco delle risorse lo spreco delle risorse idriche il consumo del suolo in una fase in cui l'allarme siccità è insomma all'ordine del giorno e dall'altro lato il secondo spunto che pensavamo è invece quello della vivibilità dei territori e quindi come in qualche modo una transizione ecologica sia effettivamente possibile in una fase di crisi sociale di ingiustizia sociale e climatica in atto e quindi niente, passo la parola a Roberto e poi inizieremo con il giro di interventi Bene, grazie per l'invito grazie di essere qua guardate non so se vale molto la pena diciamo così di tediarvi ulteriormente con le notizie generali sui cambiamenti climatici nel senso che immagino se siete qua in qualche modo avrete letto insomma di come sta andando di come sta andando il mondo volevo provare a darvi due o tre chiavi di lettura più vicine che forse anche consentono di collegare meglio poi anche gli interventi gli interventi successivi e che riguardano appunto gli effetti del cambiamento climatico e se vogliamo anche i non effetti del cambiamento climatico nel senso il fatto che nonostante ci si trovi di fronte all'evidenza ormai incontrovertibile si continua a comportarsi come se non fosse così in realtà come se potessimo continuare con una serie di paradigmi antichi magari declinati in maniera un po' diversa ma che comunque non hanno più nessun significato allora guardate in pochissime parole il clima sta cambiando uno potrebbe dire ci sono sempre stati anni eccezionali quindi uno potrebbe mettere il 2022 tra gli anni eccezionali e dire ma poi tornerà in qualche modo torneremo alla normalità effettivamente non è così non è così noi continuiamo a superare dei record climatici e un anno è quello più caldo poi diventa quello più secco poi diventa quello nel quale c'è la precipitazione ci sono le precipitazioni più concentrate e poi diventa quello nel quale ci sono gli incendi in Scandinavia oppure in Siberia e quindi noi continuiamo a inanellare una serie di record climatici tanto per dirvi una cosa anche lì immagino che avrete sentito parlare dell'accordo di Parigi che è un accordo per il quale si cerca di tenere le temperature globali al di sotto o meglio l'aumento delle temperature globali è di sotto di un grado e mezzo rispetto all'epoca preindustriale bene a Torino siamo già a un grado e 7 la città con il cambiamento più alto tra i capoluoghi di regione è Perugia in cui siamo già oltre i due gradi e sulle Alpi siamo già oltre i tre gradi in alcune situazioni per cui noi già viviamo in un mondo che è andato oltre a quel livello e questo ha una serie di conseguenze ha una serie di conseguenze se pensiamo in qualche modo al contesto nel quale poi tutte le storie che ascolterete si svolgono prima di tutto questo è un contesto urbano ed è un contesto se vogliamo periurbano è un contesto di un territorio che sta intorno a una città che era grande adesso è più una media città però comunque rimane la quarta o la quinta città città italiana le città sono da un lato la causa e le vittime dei cambiamenti climatici nel senso che a seconda dei paesi del mondo però le emissioni di gas a effetto serra di gas clima alteranti che provengono dalle città possono arrivare fino al 70% del totale e quindi sicuramente il contributo delle città al fenomeno dei cambiamenti climatici è molto importante ma allo stesso tempo sono anche le vittime del cambiamento climatico più di altri territori ci sono un paio di cose ce ne sono tantissime che si possono dire ma ve ne dico un paio la prima è che le città sono già più calde dei territori circostanti normalmente esiste questo fenomeno che si chiama isola di calore urbana per cui quando voi entrate a Torino o da fuori anche solo col termometro della macchina vedete che la temperatura aumenta di 3 gradi dalla campagna fino al centro della città e questo può diventare un incremento anche di 5, 6, 7 gradi quindi le città in un clima che cambia nel senso del riscaldamento nel senso degli episodi acuti di ondate di calore è destinata a soffrire di più è destinata a soffrire di più è destinata a soffrire di più tra l'altro non in modo uguale per tutti perché studi che sono stati fatti in numerosissime città del mondo hanno dimostrato come i quartieri più poveri sono quelli in cui questo effetto è più marcato perché? perché si vive in palazzi grandi costruiti male senza impianti di condizionamento con una pessima situazione energetica con poco isolamento e con poche aree verdi quindi nel mondo già adesso le ondate di calore nelle città sono una causa di disuguaglianza anche all'interno delle città nei quartieri più poveri fanno più vittime nei quartieri più poveri ci sono più problemi e questo poi vale in alcuni paesi come gli Stati Uniti soprattutto rispetto ad alcune comunità cioè le comunità nere ispaniche nelle città americane sono più esposte al fenomeno delle ondate di calore quindi anche qui nonostante i poveri emettano dieci volte meno dei ricchi in realtà poi si beccano non solo a livello planetario quindi i paesi più poveri rispetto ai paesi ricchi ma anche all'interno dei paesi e anche all'interno delle città si verifica questo fenomeno l'altro problema delle città è che quando i fenomeni di precipitazione estrema diventano particolarmente acuti le città sono fondamentalmente impermeabili ok la pioggia che cade scorre sulla superficie dell'asfalto scorre sui tetti si infila nelle fognature quando va bene perché ogni tanto le fognature sono intasate quindi non si infila le fognature e allaga la città le città quindi si allagano e anche lì statisticamente i quartieri più poveri si allagano di più dei quartieri più ricchi quando c'è stato il famoso ma devo dire vari uragani negli Stati Uniti hanno proprio dimostrato questo sono state fatte delle analisi come dire a valle di questi di questi eventi e si è notato e si è notato e si è notato questo quindi perché mi riallaccio anche al tema del cemento il cemento è come dire forse la sostanza che più di tutte riassume diciamo così la modernità se vogliamo cioè alcune cose si sono state rese possibili dalla scoperta del cemento armato fondamentalmente dal fatto che siamo stati in grado di costruire delle opere che prima eravamo in grado di costruire beh guardate il cemento intanto è una di quelle cose per cui quando voi la producete anche se doveste bruciare idrogeno nei posti che fanno il cemento comunque le emissioni di CO2 ce le avete tant'è che il 7% delle emissioni storiche cumulate nel mondo derivano dalla produzione del cemento e questo deriva dalla reazione chimica che si fa quando voi producete il cemento non c'è niente che potete fare il cemento poi buttato sulle città utilizzato le infrastrutture è la causa delle isole di calore è la causa dell'impermeabilizzazione delle città e quindi contribuisce in maniera pesante quindi la cementificazione è intanto paradigmatica proprio del come si concepisce lo sviluppo delle città non si concepisce lo sviluppo delle città senza il cemento senza cementificare e questo diventa un moltiplicatore diciamo di problemi ora perché è importante quindi occuparsi di queste diciamo di queste battaglie perché è importante guardare le battaglie per salvare il meisino per occuparsi della Pellerina per occuparsi del Prato Parella per occuparsi della TAV per occuparsi di tante altre situazioni perché sono tutti posti nei quali si rischia veramente di continuare ad andare avanti con il creare ulteriori isole di calore il creare ulteriori impermeabilizzazioni del suolo e quindi non solo si continua a utilizzare cemento e quindi si incrementa da un lato quel fenomeno della città come causa del cambiamento climatico e dall'altro la città come vittima del cambiamento climatico quindi veramente è il momento di tirare non una ma una serie di righe perché poi quando voi parlate con chi si occupa di amministrazione di politica spesso dice sì vabbè ma facciamo ancora questa roba qui ma tanto poi come dire l'efficienza energetica degli edifici sarà molto alta poi magari facciamo anche il parcheggio in cui si infiltra un po' d'acqua poi magari mettiamo due piante in realtà poi quando fate un confronto tra quello che succede dopo e quello che c'era prima difficilmente si vince difficilmente c'è un vantaggio noi siamo in una situazione nella quale ci dobbiamo occupare e preoccupare di smantellare la cementificazione di demolire le cose che ci sono di togliere l'asfalto dai parcheggi dove c'è di rinaturalizzare le città e questa è una cosa che all'estero viene fatta ormai abbastanza abbastanza abbondantemente vi cito dopo l'uragano Sandy la città di New York che è finita sott'acqua in una maniera che non immaginava ha realizzato 10.000 giardini della pioggia che sono dei piccoli pezzi di marciapiede in cui si fa una risega così si scava si toglie il cemento si toglie l'asfalto e si fa un giardinetto in cui l'acqua ha la possibilità di entrare e di infiltrarsi quella roba lì migliora intanto appunto toglie un po' di impermeabilizzazione fa entrare l'acqua nel sottosuolo ci sono delle piante migliora il microclima migliora la biodiversità e quant'altro a Torino sono state fatti alcune di queste cose ma le si considera ancora sperimentali a me è la cosa che fa veramente come dire cazzare scusate è è questa che noi viviamo in una città in cui le cose che altrove sono banali vengono passate come degli esperimenti come se dovessimo mandare un razzo sulla luna ecco non è così ah i 5 minuti sono passati fantastico ne ho ancora due perfetto allora quindi cioè guardate bisogna chiedere queste cose perché queste cose sono normali cioè perché oggi il dibattito nel mondo è togliamo l'asfalto usiamo meno cemento piantiamo più alberi lasciamo i prati dove stanno occupiamoci dell'infiltrazione dell'acqua invece qua si fa l'Eurovision come si chiamava Eurovision quello è il casino ecco si fa l'Eurovision al parco nel parco più iconico della città si trasforma un prato in una specie di roba di asfalto perché diecimila persone che pestano il suolo ok questa roba ve la insegnano tutte le volte che studiamo ecco quella roba lì poi bisogna passare arare e seminare di nuovo perché ma viene considerato normale questa roba qui viene considerata normale ecco queste robe non sono normali non sono normali la normalità è togliersi dai piedi il cemento togliersi dai piedi l'asfalto piantare degli alberi anche perché se noi non piantiamo alberi guardate il mese di luglio del 2022 l'eccesso di mortalità nelle città italiane è arrivato in alcuni casi al 25% ok semplicemente perché faceva troppo caldo e la gente usciva di casa e si trovava in una strada senza alberi si trovava in una strada di asfalto e di cemento e letteralmente se uno è già malato è chiaro che se ci vanno loro possono anche farsela di corsa se ci va la loro nonna o il loro nonno che magari ha già un problema cardiaco eccetera eccetera arriva a casa e schiatta ecco queste sono le cose che succedono nella città a causa del cambiamento climatico e che se i progetti se le amministrazioni continuano a fare finta che ci si debba solo occupare ogni tanto di mettere qualche zona 30 intorno alle scuole ecco da questa roba qui non ne veniamo fuori grazie Bruno Morra sono stato sorpreso Bruno Morra del comitato salviamo il maesino oggi doveva esserci qua un'altra persona ma abbiamo organizzato una manifestazione all'interno del parco è andata molto bene penso che sia ancora in corso e quindi sono sotto via perché l'altra persona aveva organizzato più in prima persona tutta la cosa quindi era giusto che rimanesse là io abito a Borgata Rosa quindi sono proprio al margine del parco lo conosco da 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 sempre da prima che fosse nato perché è nato il parco è nato come 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 presentazione alla fine del secolo scorso e ed ed i lavori sono sono iniziati negli anni e i primissimi anni nei primissimi anni 2000 prima era una zona di orti di orti urbani molti abusivi anche di discarica con la lotta che è stata fatta una lotta ecco insomma in quegli anni è stato creato il parco il parco con una visione strana se parliamo di più di vent'anni fa era nato come parco come parco agricolo vi racconto una tanto per dare una dimensione una cosa io faccio parte appunto come dato spontaneo di Borgatorosa Sassi che è nato nel 2001 nel nel 2004 stufo di vedere i ragazzini che giocavano a palla ecco in mezzo alla strada avevano già avevano già sistemato parte del parco e per chi conosce per chi conosce la Borgatorosa nel prato molto grande che c'è a fianco della scuola elementare avevo chiesto di mettere due porte per giocare a calcio senza rete perché se no magari poi la rubavano ho detto ma solo due due tubi e mi hanno detto che era che non si poteva fare perché era un parco agricolo io allora mi hanno anche incazzato perché ho detto ma come parco agricolo c'è un prato mettete lì almeno almeno questi ragazzini giocano poi ho capito invece vedendo poi l'ho l'ho capito anni dopo perché lì tutti gli anni tutti all'estate portano le mucche prima avevamo portato anche le pecore c'è stato un periodo penso che molti l'abbiano visto e vedendo i ragazzini che escono dalla scuola e guardano le mucche perché molti magari li avevano visti solo in televisione erano lì insomma estasiati solo quindi solo per vedere lo sguardo di questi bambini ti fa capire cosa vuol dire il parco del mesino no è un po' come è un po' come le vallere no quindi prati boschi molto ampi dove si può camminare dove si può godere del silenzio anche oppure di sentire gli uccelli gli animali è zona tutta la parte dove c'era dove c'era il galopatoio militare è zona di protezione speciale difatti adesso stanno avendo qualche problema a fare le cose che volevano fare difatti buona parte dell'attività sportiva è stata spostata dalla parte di Borgatorosa dall'altra parte di questo stradone che adesso si chiama Don Luigi Sturzo che finisce poi sopra il Ponte Dig la curva delle centolire e quindi niente è un parco particolare un parco speciale tutti quelli che lo frequentano e comunque voglio ricordare che è stata lanciata una petizione su Cengiorg che ha raggiunto i 3.400 firme per quello che vale comunque ecco e poi è stata anche è stata fatta anche una petizione favorevole al parco che si è fermata a 300 quindi tanto per dare un po' la dimensione della cosa e tutti quelli che lo frequentano tutti quelli che lo conoscono dicono ma insomma è una cosa assurda non fanno delle grandi cementificazioni vanno recuperare i ecco i fabbricati però per esempio proprio in quel prato dove volevo mettere le due porte e il tecnico del comune ha detto no lì è un parco agricolo quindi vorremmo poi seminare fare e vogliono fare la pista di scinordico su teli di plastica 500 metri di percorso 6 metri di larghezza proprio in quel prato lì dove allora con una visione diciamo così con una visione futuribile allora invece adesso siamo tornati indietro perché vogliono fare una cosa allora non c'è niente contro lo sport contro le però è contro tutto il progetto sono 11 milioni e mezzo di euro non sono insomma ecco delle noccioline è è nato perché lo sport quello che dice il PNR soldi a debito quindi i giovani pagheranno loro io ormai ecco pagherò ancora per pochi anni ma però quelli che verranno dopo di noi ecco dopo di me pagheranno il PNR che secondo me farà disastri un po' in tutto il paese perché finché ecco vengono utilizzati per scuole per mettere a posto per però invece se vengono utilizzati in quel modo lì con il rischio che queste strutture dopo un po' di anni vadano tutte insomma scatafascio e ecco il progetto è nato come come sport e come recupero insomma sociale praticamente lo scopo dei fondi allora a Borgata Rosa a Sassi a Madonna del Pilone sicuramente qualcuno da recuperare ci sarà c'è in tutti i posti però forse a barriera di Milano ce ne sono molti di più quindi questa invenzione cioè e tutto è partito perché c'era il galoppatoio che quindi è considerato perché deve essere deve partire su un impianto sportivo esistente ma lì sono vent'anni che non c'è più niente ci sono solo più delle vecchie ecco il vecchio fabbricato oltretutto il vecchio fabbricato storicamente era cascina malpensata no perché? perché lì è zona esondabile quindi quando l'hanno fatta forse hanno fatto male malpensato è questo progetto quindi andiamo avanti la storia non cambia allora niente allora io il progetto come è stato presentato c'è su sul sito del comune si riesce a trovare si scarica tutto il progetto tutte le cose che vogliono fare c'è una petizione come dicevo prima che era nata all'inizio quando tutto si doveva fare sopra il galoppatoio nella zona più verso ecco dietro il cimitero di Sassi praticamente adesso invece è spostato molto anche di là perché comunque il parco del Poglio hanno detto che lì non si poteva fare tutto quello che volevano fare deve ancora arrivare la vinca cioè la valutazione dell'impatto ambientale che non è ancora stata fatta secondo noi stanno contrattando con il comune per cercare di trovare soluzioni forse non l'hanno ancora trovate e niente quindi la cosa importante è andare avanti noi abbiamo scritto il ministero abbiamo fatto un po' di tutto abbiamo cercato di stare a contrastare oggi questa manifestazione sui giornali è uscita in questi ultimi tempi con anche i rischi sapete bene che i giornali sono merce da stare a trattare con cautela perché a volte sono dei boomerang che si rivoltano contro sono usciti anche dei commenti abbastanza importanti che poi comunque hanno sempre cercato di bilanciarli con il comune che ripete la solfa perché ecco il progetto è parco dello sport e dell'educazione ambientale noi come salviamo il mesino adesso chiudo abbiamo detto ci va bene l'educazione ambientale farla in quella zona lì dove c'era la caserma con tutte le caratteristiche di tutela perché lì è zona umida che adesso dovrebbe essere teoricamente chiusa e lo sport fatelo da altra parte dove comunque si può fare con il telegatore sociale meglio dove c'è più esigenze e questo l'abbiamo fatto abbiamo mandato questa nostra contro proposta il 4 di dicembre a sindaco se sono interessati neanche una risposta questo è il punto comunque io vi invito si può trovare il link chi non l'ha ancora fatto andando sulla pagina facebook salviamo il mesino lì c'è sia c'è sia il QR code che anche il link per andare su Cengor qualcuno dice serve a poco ma poco è meglio di niente comunque vi ringrazio io sono Maria Cariota del comitato torinese di salviamo il paesaggio che è un forum nazionale che salva il paesaggio nel senso di territorio identità e quindi soprattutto si occupa della salvaguardia del suolo libero quindi noi come comitato torinese su questa tematica abbiamo seguito e seguiamo diverse questioni quindi dovendo fare qualche esempio che magari esempi emblematici degli vari spunti che diceva diceva Maria allora posso partire da parella perché è una delle lotte che abbiamo seguito dall'inizio dal 2019 giugno 2019 e che è terminata con una vittoria o almeno dovrebbe essere vinta una cosa ecco che parella dà la possibilità di dire è che una delle cose che accomunano le varie trasformazioni urbanistiche che comportano consumo di suolo a Torino e che ad esempio accomuna parella con Westinghouse con Bertolla Falchera sta nel fatto che il piano regolatore prevede una serie di zone urbane di trasformazione dentro le quali ci sono dei terreni vergini quindi suolo libero su cui nella storia dei secoli non si è mai costruito quindi suolo profondo con tutto quello che comporta quindi suolo che si è formato in secoli perché sappiamo che due centimetri si formano in 500 anni tutti i servizi ecosistemici che sappiamo quindi assorbimento di carbonio acqua beh adesso non sto lì a ricordare le zone urbane di trasformazione da definizione di piano regolatore sono zone in cui a prescindere dallo stato di fatto dice proprio il piano regolatore possono essere realizzati interventi che vanno a modificare anche totalmente l'area siccome in realtà queste ZUT comprendono moltissimi terreni vergini il terreno vergine è considerato invece che una risorsa naturale qual è? come una superficie una lastra praticamente su cui puoi fare tutto un vuoto urbano assolutamente esatto e quindi questo è il problema tutte le lotte in realtà si basano poi su questo errore di valutazione poi in realtà che deriva dalla normativa comunitaria nazionale regionale che cioè in Italia il suolo è tutelato dal codice dell'ambiente ma non è tutelato in quanto suolo e risorsa naturale solo se è contaminato però si può distruggere si può eliminare allora riguardo a Parella niente sostanzialmente si era previsto che si dovessero realizzare prima un pallavolle poi degli studentati per le olimpiadi c'è stata una mobilitazione molto grande le iniziative sono state tantissime soprattutto si è cercato di avere una presenza costante quasi mensili al Pratone soprattutto occuparsi del Pratone materialmente e di coinvolgere la cittadinanza in questo l'ultima iniziativa è stata la delibera di iniziativa popolare che è stata scelta dal comitato salvia mi prati non l'avevo citato perché strumento forse più potente rispetto politicamente almeno più forte rispetto agli altri perché costringe il Consiglio Comunale non solo a discutere ma anche a votare poi approvando o rispingendo ma comunque costringe a farlo in questo caso a settembre 2022 il Comune ha accettato questa delibera e l'ha approvata quindi da lì nasce una variante che prevede l'inedificabilità dell'area Riguardo al ah ecco Parella dà anche la possibilità di parlare del fatto che in realtà Parella è anche contraddittoria di per sé come vicenda perché i cittadini sono riusciti a salvare un Pratone che è quello pubblico comunale perché gli altri i due adiacenti che sono un po' più piccoli ma comunque grandi in realtà sono spacciati e sono vergine anche quelli perché lì verranno costruiti sempre perché sono nella Zut però in quel caso sono terreni privati già oggetto di convenzione sottoscritta col Comune e quindi sì si è salvato questo Pratone una grande vittoria ovviamente però faranno nove palazzi davanti inutili perché come è stato detto nell'incontro prima si parlava di alloggi sfitti inutilizzati vuoti in Italia e scusate a Torino ci sono 90.000 alloggi sfitti vuoti inutilizzati che sono il 18% quindi quasi un alloggio su 5 non è utilizzato però si continuano a costruire palazzi è l'ultimo in corso traiano due palazzoni Allora quanto tempo ho? Non lo so però altre vicende che abbiamo seguito per parlare un po' di varie tematiche fuori Torino ultimamente l'ospedale unico di Cuneo abbiamo fatto delle osservazioni anche in quel caso un po' come la Pellerina in maniera abbastanza analoga tra i vari siti che in teoria avrebbero valutato è stato scelto un terreno agricolo assolutamente vergine di 140.000 metri quadri per fare l'ospedale unico che dovrebbe coprire l'esigenza della zona nord-ovest di Cuneo e quello è tutto in fieri però comunque stiamo operando su questa cosa un'altra tematica che ci troviamo spesso ad affrontare ultimamente è quella della logistica la logistica forse ha un trend esponenziale cioè si stanno costruendo grandissime piastre di logistica che poi sono enormi perché c'è la superficie del capannone e c'è anche quella però ulteriore del parcheggio e della movimentazione merci che quindi fa sì che le aree coinvolte siano tantissime siano grandissime quella che avevamo cercato di seguire e abbiamo perso su tutti i fronti e adesso che è stato provato e l'hanno anche costruito velocissimamente l'Amazon di Ero Bassano che è stato costruito su 140.000 metri quadrati di terreno agricolo anche in quel caso e a proposito del greenwashing Amazon sul sito e anche comunicando narrando questo progetto ha sempre parlato molto del fatto che danno molta importanza alla sostenibilità al tema alla tutela dell'ambiente quindi in modo sfacciato un'altra battaglia che ah ok l'ultima cosa un'altra vicenda che abbiamo seguito è quella della città della scienza e dell'ambiente di Gruiasco e questa è una vicenda veramente preoccupante perché praticamente si tratta dell'ampliamento del polo scientifico che c'era già e vogliono fare un polo cioè lo stanno facendo un polo scientifico più grande ampliando scienze agrarie forestali aggiungendo chimica biologia hanno deciso di farlo estendendosi su 140.000 metri quadrati di suolo agricolo che poi in pianura padana sappiamo è una delle classi migliori proprio per la capacità di produzione e la cosa che ci ha stupito è che l'accordo di programma ovviamente è tra enti come l'università di Torino il Politecnico Regione città di Gruiasco Camera di Commercio quando i cittadini hanno espresso il loro dissenso ma posso capire gli enti istituzionali le amministrazioni che abbiamo capito che non gliene frega niente di queste cose ma le università non hanno dimostrato alcuna etica proprio in questa cosa hanno finto di non di non sentire e non hanno accolto nessuna nessuna delle criticità che venivano segnalate eppure sul sito della città della scienza dell'ambiente si dice che uno dei driver della ricerca di questo centro studi sarà il suolo è bello questa cosa questa contraddizione ci piace però ecco scusate forse ci ho impiegato troppo quindi vi tocca rispondere a voi due che siete due docenti universitari su queste cose allora io sono Maurizio faccio parte del movimento Notav da sempre però oggi questa sera ci concentriamo più su una situazione particolare che sta avvenendo in Valle di Susa e che è direttamente collegata al TAV che è la cava di casellette diciamo cava di casellette ma la cava sorge lontano dall'abitato di casellette al confine tra due frazioni di Almese e Avigliana per chi non lo sapesse il posto era perché purtroppo adesso non l'è più è paesigisticamente molto bello nel senso che per chi arrivava da casellette sulla statale 24 fatto un piccolo ponticello davanti si stagliavano chilometri di prati coltivati a destra c'è il musinè proprio sotto la scritta notavano mafia e in fronte la sacra di San Michele con alle spalle della sacra le alpi le montagne quella cattedrale bianca in questo momento con la neve e poi il confine che va verso la Francia quindi vi assicuro per chi abita in Valle di Susa e fa quella statale arrivare lì era un bel vedere ti faceva sentire a casa ti faceva sentire in valle ti faceva vedere la natura per quello che è purtroppo circa due mesi fa proprio un terreno a fianco alla statale è stato utilizzato per costruire una cava che è direttamente collegata tra l'altro alla Torino-Lione adesso poi vi spiegherò il motivo è una cava di 220.000 metri cubi che dovranno scavare e poi riempire quindi 220.000 metri cubi che è di terreno che verrà portato via e altrettanti che verranno ritombati questo significa 35.000 camion in uscita e 35.000 camion in entrata il tutto dovrebbe durare due anni così ci dicono non ne siamo assolutamente certi che la durata della cava rimarrà aperta solo due anni potrebbe spesso la storia ci dice che le cave le aprono con dei tempi sulla carta e poi chiedono proroghe per mille motivi si ingrandiscono non trovano abbastanza materiale e la cava rimane aperta quello che ci hanno venduto è che il terreno ritornerà esattamente come era prima cosa che non lo dico io che sono ignorante in questo ma abbiamo sentito più persone esperti geologi e quant'altro che ci hanno detto che quel terreno non tornerà mai più come era prima come diceva prima l'amica 10 centimetri di terreno ci vanno migliaia di anni per far sì che si formano immaginate uno scavo di quelle entità adesso saranno 5 o 6 metri sotto il livello del terreno è completamente sconvolto le peculiarità di questo terreno non saranno mai più quelle di prima il fatto è che questo era anche un terreno di classe A agricolo di classe A quindi uno dei terreni di pregio che avevamo in valle non era un terreno dove ogni tanto ci coltivavano ogni tanto no perché con argilla no era proprio un terreno di pregio e hanno pensato bene di andare lì a tirare via ghiaia la cosa tornando al Green Washington la cosa assurda che una delle giustificazioni che hanno che ci hanno dato è che il terreno stava diventando improduttivo perché è stato coltivato per anni e anni e anni quindi come tutti sappiamo i terreni vanno poi lasciati riposare e riconcimati mentre invece la giustificazione è stata quella di andarlo a scavare che così rimettendogli del terreno nuovo il terreno sarebbe ritornato produttivo ora questa spiegazione non sta in piedi ma riescono a riescono a giustificare queste cose in questa maniera non è e poi fondamentale questo che non è che in questi due anni che la cava è aperta se saranno due anni non cambia nulla per chi abita all'intorno e per i territori appunto limitrofi alla cava perché già solo lo scavo significa parecchi macchinari che stanno lavorando scavando e quindi inquinando e poi i camion i camion che passano direttamente all'interno della frazione di Durbiaglio e questi camion emettono smog come tutti sappiamo se non ci fosse stata la cava non ci sarebbero i camion aggiungiamo che quella è l'entrata della valle di Susa dove spesso tira vento e vento anche forte ora chi passa da lì può buttarci un occhio ci sono delle montagne di terriccio sicuramente non è terriccio inquinante ma nel momento in cui c'è il vento e specialmente in questi ultimi anni dove la siccità si fa sentire quindi i terreni sono particolarmente secchi si crea un polverone pazzesco che rende invivibile la vita delle persone che vi abitano e sono molte perché lì come vi dicevo ci sono due borgate fortemente abitate che sono a poche centinaia di metri da dove stanno svolgendo questo lavoro quindi la qualità della vita delle persone che abitano in quel luogo è peggiorata ed è peggiorata fortemente quindi non potrà mai essere giustificata un'azione di questo tipo dicendo che tanto è un ripristino di un suolo che era stava diventando improduttivo e che tra due anni ritornerà a essere produttivo e nulla cambia cambia cambiano e come le cose e chi dice questa cosa e l'ho già detto io ho una persona che me l'ha detto invito a andare a vivere lì andare a vivere in una casa a fianco alla cava e vediamo se le cose non cambiano a margine poi sicuramente di Tava parlerà meglio Alberto di me ma a margine perché è collegata alla Torino-Lione perché una parte dell'osmarino parliamo di 30.000 metri cubi arriverà da San Didero da questo autoporto che adesso non ve lo sto a dire a raccontare però è un altro di quei progetti scellerati in cui si costruisce un qualcosa che doveva già esserci è stato costruito abbandonato ricostruito nuovo a Susa adesso distrutto a Susa per ridistruggere quello che era stato costruito a San Didero e ricostruirlo nuovamente i soldi girano il PIL sale l'economia va bene la nostra vita peggiora sempre di più perché alla fine a rimetterci è la nostra salute e non e il portafoglio invece per alcuni potrebbe anche andare bene ma la salute penso che dovrebbe riguardare tutti su quello che poi il Movimento Nota sta facendo su questa cava magari ne parliamo dopo questo era solo per inquadrare un attimo la situazione grazie ciao io sono Virginia sono del comitato SNON la nostra battaglia riguarda la zona denominata ex area Westinghouse che è quella di fronte cioè di lato al tribunale dietro la stazione dei Flixbus in particolare la zona dove sorge il centro Comala che forse voi conoscerete infatti in realtà la nostra battaglia nasce dalla mobilitazione che il Comala ha fatto quando ha scoperto che la strada di accesso al centro sarebbe stata eliminata per far spazio ai tir che avrebbero dovuto rifornire il supermercato S-Lunga che verrà costruito nel parco artiglieri della montagna che è proprio dietro la fermata dei Flixbus quindi Comala comincia con una grande mobilitazione con una petizione e noi decidiamo di impegnarci affinché questo prato non venga sostituito da un supermercato questa questione in realtà è quella che secondo me tanto dimostra come l'amministrazione comunale ragiona e gestisce le aree verdi nel senso che c'è stato poi anche un procedimento penale a carico di gli amministratori della città che hanno deciso di vendere la zona quindi il prato ad S-Lunga poi in realtà ovviamente molto più complicata di così ci sono stati vari passaggi però di fatto questo prato questo parco è uno dei primissimi casi unici casi in cui un prato un giardino vergine quindi di suolo non contaminato come dicevamo prima viene venduto ad un privato e questo perché viene fatto viene fatto perché secondo gli atti del procedimento penale che noi come comitato abbiamo letto e abbiamo studiato perché volevamo andare a fondo della questione perché tra l'altro sui giornali c'era qualcosa pochi articoli non si capiva come cosa quando quindi noi abbiamo preso tutti gli atti del procedimento penale li abbiamo studiati e ci siamo resi conto che effettivamente c'era la volontà di un'amministrazione comunale di colmare un buco di bilancio che probabilmente si portava dietro da sappiamo benissimo cose insomma investimenti scellerati e quant'altro grandi opere olimpiadi colmare questo buco di bilancio e aveva bisogno di immediata liquidità e la prima cosa che ha fatto è stata ok abbiamo questa zona e vendiamola così facciamo subito i soldi insomma diciamo e quindi questo dimostra proprio come ci sia un grande collegamento tra l'amministrazione comunale e determinate imprese private diciamo ed è questo proprio come la città di Torino investe sulle proprie aree verdi cioè invece di valorizzare l'ambiente di valorizzare il suolo e di impegnarsi a rispettare gli obblighi che essa stessa si è presa sia in sede internazionale con la conferenza di Parigi ma anche in sede più locale proprio nei confronti dei propri cittadini cioè come voi saprete comunque Torino ha dichiarato l'emergenza climatica ha fatto tutto un documento in cui spiegava come intendeva risolvere le problematiche che la affliggono tra cui c'è il fatto di essere sempre ogni anno tra le città più inquinate di tutta Italia quindi nonostante questi impegni presi scritti su documenti che sono reperibili accessibili a tutti poi nei fatti in realtà il territorio verde viene utilizzato per essere svenduto e per essere insomma per lucrarci sopra e vorrei passare la parola a Lorenzo che vi parlerà anche lui del comitato SNON e vi parlerà delle nostre battaglie grazie ok allora io sono Lorenzo faccio anche parte del comitato SNON come comitato abbiamo cercato un dialogo che possiamo definire anche istituzionale che è consistito in una prima petizione è consistito anche in questa lotta legale che abbiamo intrapreso prima facendo accesso agli atti e poi cercando di costituirci parte civile con l'associazione Comala e con altre associazioni ambientali del torinese e quindi abbiamo sia parlato con la politica abbiamo parlato anche con i giudici che dovrebbero tutelare gli interessi giuridici della collettività e la risposta è stata addirittura non c'è stato nemmeno un dialogo di greenwashing è proprio stato una miopia anzi magari una miopia una cecità nel vedere il problema ambientale nella vicenda in esame il giudice non ha ritenuto che ci fosse un danno ambientale nella vicenda e quindi non ha messo la costituzione di parte civile la politica con cui abbiamo ogni volta interagito in occasioni diverse ha sempre dato delle risposte che creavano tristezza nei noi uditori perché cascare le braccia è un'espressione che non darebbe abbastanza vigore quindi abbiamo stato una prima volta in cui siamo andati davanti al comune abbiamo organizzato una conferenza stampa davanti al comune nel quale facevamo presente tutte le attività fraudolente che erano state fatte per l'aggiudicazione di quell'area a S. Lunga e siamo stati addirittura ascoltati quindi la conferenza di capigruppo del Consiglio Comunale ci ha ricevuto cercando di farsi belli rispetto al fatto che ascoltavano i cittadini però dandoci sempre soltanto risposte deludenti perché tanto ma sì va bene che la circoscrizione ha pochi uverde però prendi la macchina e vai a Ruffini questo tipo di dialogo che ci ha visto oppure poi quando abbiamo fatto la commissione a seguito della petizione sono state proferite delle esclamazioni indegne come ad esempio quando il comune riceve dei soldi per tagliare gli alberi taglia gli alberi quando riceve soldi per piantare alberi pianta gli alberi oppure un'ignoranza totale in questa interrelazione era luglio 2022 e ci dicevano sapete che oggi abbiamo scoperto che piantare un nuovo albero non fa lo stesso effetto di lasciare un albero che è ancora attivo queste domande queste risposte che un bambino sarebbe in grado di darsi loro non le avevano e le stanno apprendendo con un ritardo che ha di delinquenziale nel farlo perché non sono assolutamente in grado di fare questo tipo di percorso come comitato poi stiamo conducendo quindi una mobilitazione che cerca di tenere in vita il parco cerca di dare attenzione al parco e stiamo anche soprattutto cercando di creare una rete tra i vari comitati che lottano nelle loro aree specifiche e in questo noi crediamo tanto cercando di fare un filo rosso che riesca a ricollegare le varie battaglie e in modo tale da avere una voce più forte quando si parla con la politica e cercare di mettere a nudo le loro inadeguatezze grazie mi sentite mi chiamo Fabio Balocco non sono giornalista tantomeno sono redattore del fatto quotidiano vi ringrazio comunque per avermi dato questa qualifica sono semplicemente un blogger ma devo dire che sono anche entusiasta di essere un blogger e mi incazzo con quelli che mi dicono sei un giornalista perché i giornalisti sono pagati i blogger sono liberi e quindi io posso dire quello che mi pare tant'è vero che per il fatto quotidiano lavoro dal 2011 e non mi hanno mai cassato un articolo ecco anche se talvolta vado contro del giornale in particolare è utile praticamente l'house organ del Movimento 5 Stelle io non è che mi trovi molto in questa situazione comunque volevo soltanto iniziare facendo una postilla a questa questione nella S.E.Lunga perché me ne sono occupato avevo scritto due o tre articoli appunto a riguardo l'avevo approfondita e una cosa divertente nella tragicità appunto di questa vicenda è il fatto che anni fa Chiamparino voleva realizzare nella zona della Westing ex Westinghouse voleva realizzare un mega progetto che comprendeva praticamente la più grande biblioteca d'Italia probabilmente sarebbero state concentrate tutte le biblioteche di Torino e poi anche un centro congressi fece fare lo studio ad una Archistar si è parlato prima degli Archistar che io odio di Milano il quale appunto fece il progetto poi dato che ci furono le Olimpiadi del 2006 a cui adesso tra l'altro mi ricollego e ormai Torino aveva le pezze al culo e continua ad averle tuttora il progetto non andò in porto però la parcella doveva essere pagata la parcella era 16 milioni ora hanno pagato 16 milioni piagò appunto l'amministrazione di sinistra pagò 16 milioni all'Archistar Bellini mi pare che si chiamasse appunto di Milano e adesso ne è introdotti 19 dalla S lunga quindi diciamo che non è che abbia negli anni fatto un grosso affare ecco al di là del disastro al di là del disastro ambientale che adesso appunto questo comporterà comunque ho 5 minuti di tempo adesso ne ho già un po' meno e parto comunque dal 2006 però sarò breve comunque rimarrò nei 5 minuti parto dal 2006 per questo motivo perché allora io adesso questo di cui andrò a parlare è l'alta Val di Susa non la bassa Val di Susa e in particolare la monocultura dello sci e attività collegate mi ricollego appunto al 2006 per il fatto che nel 2006 anzi anni prima praticamente nel 2005 io ero in pronatura come Morra qua che aveva parlato appunto prima e dovevamo affrontare appunto le strutture che infrastrutture che il comune di Torino ma non solo anche i comuni dell'Alta Valle volevano realizzare in funzione delle Olimpiadi Invernali del 2006 in particolare c'erano due strutture che noi ritenevamo che fossero assolutamente inutili e ovviamente appunto volevano essere realizzate sul territorio appunto dell'Alta Valle una erano i trampolini di pregelato e l'altra era la pista di Bob e Slittino e Scheleton anche di Cesana Pariol quindi sotto praticamente San Sicario mi concentro soltanto su questo e adesso vedremo per quale motivo allora noi come pro natura dicemmo ma perché volete realizzare questa pista che non servirà assolutamente a niente perché sappiamo benissimo che quelli che fanno quei pazzi che fanno appunto Bob, Slittino eccetera sono poche decine mi pare che il Bob in Italia sia praticato da 16 persone tanto per dire quindi chiaramente appunto cioè la realizzate perché cosa per fare le Olimpiadi poi rimarranno utilizzata cosa che ovviamente appunto è successa siamo stati facili i profeti ma la cosa assurda è questa e mi ricollego qua alle Olimpiadi adesso che ci sarà una cortina che si poteva utilizzare la pista di cortina allora perché non era ancora abbandonata oppure l'alternativa era la Plagne in Francia no bisognava fare la pista allora noi dicevamo volete fare la pista c'è una tecnologia amovibile cioè la fate e la portate via perché poi non servirà più un cazzo no la facciamo e la lasciamo lì perfetto hanno speso 113 milioni mi pare allora è costata 2 milioni all'anno fino a che non hanno tolto l'ammoniaca il che è successo mi pare soltanto due anni fa quindi un bagno di sangue per qualcosa che è di inutile dato che è inutile che cosa hanno pensato di fare quello che adesso appunto chiamano appunto lo schidom cioè chiudere appunto con una cupola e fare le piste all'interno di questa struttura si dice che sia una pensata attuale in realtà risale a 2011 perché appena 5 anni dopo si erano resi conto che era stato un bagno di sangue e volevano farci comunque qualcosa dato che nessuno era così pazzo appunto ad andare a correre lì risale a 2011 adesso l'hanno tirato fuori la nuova amministrazione appunto di Cesare l'ha tirato fuori e vuole realizzare appunto questo schidom ripeto è praticamente una struttura chiusa con plexiglass cosa di questo genere praticamente che però cadrebbe sullo stato attuale dell'arte quindi su questa pista ma in realtà l'amplierebbe molto perché chiaramente dove facevi appunto Bob non è che ti puoi mettere a fare le curve quindi saranno sarebbero due piste larghe 60 metri e per una lunghezza di circa 850 metri per poter fra virgolette sciare tutto l'anno no? di fronte a me ci sono due amici che ben conosco che scrollavano la testa quando tu prima hai cenato allo schidom lasciando intendere che è una follia no dal loro punto di vista non è una follia così come non è una follia il buco sotto le montagne appunto che stanno realizzando con la TAV tra l'altro io me ne sono occupato direttamente perché facevo parte prima del gruppo dei legali no TAV non è una follia perché la logica continua ad essere quella di realizzare le opere cioè sanno benissimo che quest'opera anche qualora venisse realizzata non servirà praticamente a niente perché io voglio vedervi appunto andare a sciare sotto questa cupola avanti e indietro come i cricetti sulla ruota chiaramente non sarà non sarà ipotizzabile oltretutto lo sci diventa sempre più caro e sarà carissimo sotto uno in uno schidom perché ovviamente appunto i costi sono molto elevati quindi sicuramente appunto un'operazione in perdita ma un'operazione in perdita che rientra appunto nella logica del non vorrei rinunciare a un certo modello di sviluppo io non sono per un altro modello di sviluppo io sono per la decrescita però mi tocca parlare appunto di sviluppo perché questa è la logica in Altavalsusa la logica è monoculturale e della logica dello sci comunque sia quindi lì non si può fare più Bob si farà comunque sci questa fissazione appunto dello sci che permane appunto in tutta Italia io lo scorso mese sono andato in centro Italia a parlare di sci nelle marche dove ci sono altri altri progetti di ampliamento di impianti ce n'è uno ad esempio anche in Lazio il Terminillo c'è il Corno alle scale è stato fatto il Catria e quant'altro rispondono appunto alla logica semplicemente appunto di mantenere resistente pur sapendo che ad esempio nel caso dello sci non se ne farà assolutamente nulla tra qualche anno degli impianti uno studio dell'Università di Basilea basato sull'ampliamento del bacino sciistico di Andermatt in Svizzera dello scorso gennaio dice che è una follia continuare a pensare appunto allo sci di pista come praticabile in futuro perché tra qualche decina d'anni si potrà anche con l'innovamento artificiale e qua apro una parentesi in Italia il 90% delle piste sono elevate artificialmente la più alta percentuale nell'arco alpino chiusa parentesi non si potrà appunto continuare a pensare in questa logica perché comunque appunto con riscaldamento climatico con le precipitazioni che continueranno appunto ad abbassarsi e soprattutto con riscaldamento climatico che non consentirà più di sparare neve se non oltre una certa altitudine si potrà sciare al massimo tre mesi all'anno e sopra i 2000 metri queste sono le condizioni in Svizzera pensiamo in Italia pensiamo soltanto che Bardonecchia è la località sciistica dell'arco alpino occidentale con minori precipitazioni e temperature più alte quindi una follia però però i nostri politici come ragionano? Ragionano che bisogna conservare l'esistente anzi addirittura bisogna ampliarlo perché come voi saprete vorrebbero andare in infradito cioè infradito proprio alle scarpe infradito da Alagna fino a Zermatt attraverso il ballone di cime bianche una follia però è questa la logica cioè comunque realizzare comunque mantenere lo status quo come se la realtà fosse sempre uguale e non fosse appunto dinamica in questo caso è dinamica perché stiamo andando io ritengo verso l'estinzione e comunque sicuramente verso l'estinzione appunto di questo modello di sviluppo di cui lo sci di pista è emblematico non è facile fare l'ultimo intervento io sono Alberto Poggio sono del movimento Notav sono un tecnico del movimento Notav nel movimento abbiamo un'articolazione ampia il movimento le amministrazioni poi ci sono anche i tecnici che fanno un po' da supporto sulle informazioni dell'analisi dei dati cercare di capire che cosa succede leggere dietro le carte ma anche dietro quello che capita dove si sta andando a parare ma penso che tutte le cose che abbiamo sentito fino adesso ci dicono come noi parliamo di greenwashing questa sera ma in realtà è secondo me l'ultima delle mode di più slogan o modalità con le quali il sistema economico il sistema politico che in qualche maniera ancora in modo malfermo le redini di quello che sta capitando nei nostri territori continua a fare ormai da qualche decennio cioè cercare ostinatamente di reggere mentre tutto sta crollando perché la verità è che noi siamo secondo me un ramo discendente di una parabola di evoluzione che ha visto nell'arco dei decenni nel dopoguerra oggi una formidabile storia di successo di industria di sviluppo di miglioramento della qualità della vita oggettivamente di miglioramento della salute generale dovuto al fatto che abbiamo usato dell'energia delle risorse in maniera enorme rispetto al ritmo con cui le usavamo in passato e abbiamo avuto la facilità di usarle e avere la disposizione a basso costo e questa cosa ci ha permesso di fare cose strabilianti ma ci ha messo una velocità che non è sostenibile non sostenibile perché chi è di noi la filosofia delle cose belle o sostenibili in senso alto ma semplicemente perché non ci sta dentro nel pianeta perché il pianeta ha delle dimensioni finite e noi non possiamo diventare infiniti in uno spazio finito non possiamo stare in diecimila in questa stanza perché questa stanza ha una certa dimensione il pianeta è come questa stanza ora questo sta succedendo perché ci sono dei soggetti che hanno dei poteri delle possibilità delle ricchezze dei modi di fare che vogliono cercare di perpetrare questa situazione cercare di mantenere cercare di non perdere o perdere più tardi possibile fare in modo che perdere sia qualcun altro ma purtroppo qualcuno deve perdere perché se certe cose non si possono più fare o comunque dovranno cambiare ci saranno dei vincitori e degli sconfitti il problema è decidere chi saranno i vincitori chi sono gli sconfitti nel tentativo ostinato di mantenere lo status quo abbiamo una categoria di persone al comando in termini politici o anche del mondo industriale o produttivo che purtroppo anche alcuni forse non completamente consapevoli ragionano con logiche di ieri è come se fossimo tutti su una sedia autobus dove l'autista ha fatto la scuola guida 50-70 anni fa e guida con delle mappe che sono quelle pensate nello stesso periodo ma non si rende conto che non si guida più così che il mezzo che ha sotto non è più lo stesso e che le mappe sono completamente cambiate purtroppo dobbiamo cambiare autista è inutile che ci giriamo intorno ma in tutto questo dove la qualità del personale politico del personale tecnico che guida queste cose è purtroppo molto scarsa tranne le rare eccezioni molto arretrata molto ferma molto ottusa la situazione della Torino-Lione di cui mi occupo non perché sia la più importante delle lotte ci mancherebbe ce ne sono mille grandi o piccole tutte importanti però forse è la più paradigmatica perché è quella che dura da talmente tanto tempo e su cui sembra quasi come si sia la sintesi perfetta di tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso che la Torino-Lione sia un'opera inutile dannosa anti-economica penso che ormai lo sanno anche i muri non c'è bisogno che ne descriva qua le motivazioni ma soprattutto è un'opera che non si fa che non verrà costruita che fino ad oggi non è stata costruita perché ne parliamo da 30 anni da 20 anni si dice che è partita la costruzione ma di un metro di fuoma ferrovia non è ancora stata realizzata e non verrà realizzata nella sua completezza nell'arco dei prossimi 10-20 anni perché finanziariamente è tecnicamente impossibile costruirla nei tempi in cui è stato dichiarato però la cosa interessante è perché allora se è talmente palese che è in completa antitesi con tutto quello di cui avremmo bisogno nell'immediato con quello che sarebbe più urgente con l'allocazione di quelle risorse che sono quelle della più grande opera pubblica d'Europa in termini di dimensione parliamo di 10 miliardi di euro solo per fare il pezzo principale dell'opera 30 miliardi per farla e renderla funzionale funzionante perché se no funziona solo in quota minima e stiamo parlando di cifre impressionanti però perché io che abitavo a Rivalta fino a poco tempo fa le persone che abitano in Val di Susa da molti anni perché si trovano addosso ancora questa proposta anacronistica insensata vecchia pensata ancora prima che cadesse il muro di Berlino addirittura perché per un motivo molto semplice perché c'è un soggetto una coacervo di soggetti che continua a spingerlo e questo coacervo di soggetti è di un gruppo molto ristretto di persone la politica torinese di tutti i colori qualche burocrate romano che si occupa di questi temi è un gruppo di soggetti interessati dal punto di vista economico sono questi che continuano previcacemente a spingere e creano un contesto un clima soprattutto di comunicazione di vendita di questo tipo di opera che continua a spingere in quella direzione ma questo è il paradosso che una delle motivazioni principali è che bisogna farla Torino-Lione perché Torino che è una città ormai in declino notevole perché si legge in termini di declino quello che invece potrebbe essere una trasformazione intelligente verso altre logiche certo che se io penso sempre alla Torino fabbrica degli anni 70 che ha come unico obiettivo produrre consumare crepare e quant'altro allora forse questo potrebbe non essere qualcosa che ci vede d'accordo ma se la logica è perpetrale con lo schema lì allora la Torino-Lione è l'unica totem che riesco a tirare fuori per cercare di raccontare di prendermi ancora in giro che posso essere quello che ero 50 anni fa questa è l'unica base della Torino-Lione non ce ne sono altre non ci sono motivazioni di trasporto la linea esiste esiste già può trasportare 7-10 volte quello che ci passa in termini di merci il Frecciarossa non ha aspettato la Torino-Lione per andare a Parigi ci va già due volte al giorno e ci andava già tre volte al giorno il TGV prima non c'è più una motivazione tecnico-pratica economica che regga quest'opera eppure quest'opera magari non viene costruita non ha più senso continua a essere venduta e non solo adesso sta creando secondo me il coronamento cioè l'ecosistema della grande opera cioè quella dove anche se l'opera si inizia ma non si finirà mai intorno ci costruiamo un orto una foresta di grandi e piccoli interessi che comunque cominciano a guadagnare lo stesso su quest'opera ed è il caso di quello che diceva prima Maurizio ok sono analoghi a quelli che venivano citati prima il movimento terra da questo punto di vista è proprio l'epicentro di questa questione perché già non abbiamo neanche ancora un metodo di nuova ferrovia e già è cominciata la giosta del movimento terra roba che è su un'altra valle che è nel posto sbagliato deve essere spostata da un'altra parte e quella roba è stata buttata lì da qualcuno dove non doveva metterla a pagarla ci penserà lo Stato per spostarla in un altro luogo un'area per camion che era un'area enorme di servizio a Susa fatta la smontiamo la facciamo la facciamo a Sandidero e a Sandidero c'è del materiale in più lo portiamo e viene bene e farà una cava oggi è la cava di Casaletti ma domani in tutti i comuni dell'interland piemontese o diciamo dell'intorno di Torino ci sarà un imprenditore che si alza e dice ah ci saranno milioni di metri cubi del materiale che verrà scavato da Torino-Lione quindi ci sono delle buone motivazioni per fare una cava andrà in ragione e gli diranno bravo ne hanno proprio bisogno e lui prenderà un chilo di roba da Torino-Lione e poi gli porta 10.000 che arrivano e chissà dove è un ottimo alibi per montare cose inutili insensate anacronistiche tutto questo ci porta a dire che dove sta il punto il punto sta nella mancanza di connessione tra chi vota da chi decide chi mette al comando a sindaco di una città come Torino di una città come Rivalta nei comuni della Val di Susa o in altre aree persone che non riescono a percepire neanche questi temi vi cito l'ultimo dei casi emblematici che secondo me è proprio l'esatta rappresentazione della situazione in queste settimane nella zona della Torino-Lione che riguarda la cosiddetta tratta nazionale perché oltre al tunnel che buca le montagne tra Italia e Francia poi c'è un tratto lì a ferroviarie che da lì dovrebbe arrivare a entrare a Torino e questa area riguarda il territorio che va tra Avigliana e Torino interessa la colina Morenica con una enorme galleria di 14 chilometri in doppia galleria che deve bucare la colina Morenica e poi sbuca all'aperto tra Rivoli, Rivalta e Orbassano per arrivare allo scalo lì il progetto ha creato quello che si chiama economia circolare come piace dire adesso del movimento terra cioè la roba esce da una parte la usiamo subito nello stesso progetto per cui per smaltire quello che sono dei rifiuti di scavo milioni di metri cubi di rifiuti di scavo scavati con una macchina che usa degli additivi chimici dei polimeri che facilitano l'avanzamento di questa macchina di scavo ma che sono anche come dicono le schede descrittive di questi prodotti ecotossici allora questa roba non sai dove metterla la mettiamo nell'area a fianco dove passa la linea e gli copriamo sopra una collina una duna come usa dire nel progetto di milioni di metri cubi di materiale ma questa duna dove sta? sta esattamente sopra un'area che si chiama area dei pozzi SMAT che da Rivalta alimenta il 12% dell'acqua dell'acquedotto di Torino allora qui rischiamo il cortocircuito Torino in modo lato la politica torinese chiede di fare la Torino-Lione per essere per rilanciarsi e poi si ritrova essersi sparata nei piedi perché quella stessa opera rischia di mettere in forse la sua capacità di alimentare il proprio acquedotto proprio in un'area dove recentemente i pozzi sono stati aumentati perché il fabbisogno di acqua di Torino sta aumentando e va contro la scarsità di risorse idriche ora vedremo cosa succederà vedremo se saranno in grado di fare quest'opera o cosa succederà sulle risorse ma certamente c'è qualcuno che non si sta rendendo conto che sta lanciando delle palle in una direzione che gli stanno per battere sulla nuca forse è il caso di rendercene conto tutti e di cominciare a porre queste questioni in termini diretti come si fa a evitare il greenwashing bisogna mettere giù i fatti la realtà i numeri obbligare a discutere di questi perché se no parliamo solo di slogan la Torino-Leone è uno slogan sono slogan tutte le cose che sono alla base delle opere che sono state citate ma sotto lo slogan non c'è nulla la politica la deve smettere di andare avanti per slogan deve cominciare a occuparsi della realtà applausi 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 sentite ovviamente appunto da vicino della Torino-Leone tra l'altro abitavo a Capri fino a pochi anni fa però vi invito a leggere gli articoli che sono comparsi ormai da qualche mese sia sul fatto quotidiano ma soprattutto sul fatto quotidiano alcuni che ho scritto anch'io su un'altra grande opera al cui confronto la TAV purtroppo è una sciocchezza in questo senso l'alta velocità nel sud Italia che collegherà Salerno a Reggio Calabria è una cosa spaventosa il costo stimato attualmente è 15 miliardi le stesse ferrovie dello Stato in questo caso avevano qualche anno fa avanzato un progetto e l'avevano presentato anche in Consiglio dei Ministri per velocizzare la linea attuale per velocizzare la linea attuale costava 4 miliardi però ovviamente appunto non ci avrebbero guadagnato abbastanza i vari costruttori cioè il partito delle costruzioni quindi si è deciso di non utilizzare la linea attuale di farne una all'interno con centinaia di chilometri di gallerie per guadagnare qualcosa come mezz'ora rispetto appunto alla linea attuale al confronto veramente la TAV è una sciocchezza perché la situazione è disastrosa dal punto di vista idrogeologico realizzando tutte queste gallerie e di più non c'è assolutamente un'opposizione popolare quindi la faranno tranquillamente negli anni e sarà un disastro assoluto per la campagna e per la Calabria a questa si aggiunga poi come ciliegina sulla torta l'alta velocità in Sicilia dove praticamente la situazione delle ferrovie da far west ancora e realizzano l'alta velocità che è una cosa folle praticamente perché non esistono i treni l'alta velocità soprattutto sulla tratta Catania-Palermo anche lì tutta in galleria perché ovviamente conviene di più al partito delle costruzioni grazie mille ma vista l'ora insomma lasceremo spazio anche per degli interventi per iniziare un po' una discussione in caso anche noi poi integriamo con altre domande che ci sono venute in mente sono arrivato ieri da Tenerife dove c'è una realtà allucinante hanno perché intanto è un in Spagna c'è il re e quindi hanno privatizzato l'acqua e non c'è stata una votazione un referendum nel 2006 hanno privatizzato l'acqua dell'isola e tutti i fusi sono cantati a se sono sparsi bocchi cieli sono andati stinti le contifazioni dell'isola sono trattate molto molte e tutto per dare acqua avanti aperti dei pubblici spagnoli inglesi francesi e campi d'agosto e la resistenza canaria è forte però sembra un verbo di quello che potrebbe essere Totorino tra qualche anno vedendo come stanno privatizzando l'acqua sempre di più senza dirlo poi tra l'altro e questo progetto dell'acqua per i cannoni è assolutamente folle ci sono delle resistenze comunque il popolo è lì attivo ma non vedo loro non vedono molte vie di uscita perché davanti al re non hanno strumenti democratici di opposizione grazie una piccola informazione sono parla del comitato pubblico di Torino tra l'altro voi vorrei parlare di una questione dei posti di SMAT perché SMAT ci sta a cuore cioè ci stava a cuore nel senso siamo portatori di quel referendum che ha portato 27 milioni di persone a dire che l'acqua doveva essere gestita dal pubblico non è andata così quindi dicevo all'amico compagno di Tenerife in Italia l'acqua non è gestita dal pubblico l'acqua è gestita da società che sono SPA che hanno come finalità il profitto alcune hanno come soci soggetti pubblici come la SMAT ma questo non vuol dire niente perché di per te il soggetto è quello lì volevo solo darvi una piccola informazione rispetto ai temi ambientali stiamo parlando di siccità è uscito da poco un'indagine Istat dove prevede che quest'estate 3 milioni e mezzo di piemontesi saranno senza acqua e finalmente come comitato acqua siamo riusciti ad avere i dati da SMAT per capire qual è lo spreco idrico allora lo spreco idrico vuol dire che l'acqua immessa nei tubi passa nei tubi e arriva nei nostri rubinetti Torino e provincia perde il 34% di acqua 34% quindi quando voi aprite il rubinetto sapete che dal passaggio 34% se ne va via e mi riferivo alla questione delle grandi opere SMAT ha in testa grandi opere sapete soprattutto quali gli invasi grandi e piccoli allora parliamo della scarsità della siccità ci chiediamo questi invasi che acqua avranno visto che l'acqua non c'è e quella poca che sarà raccolta in questi invasi prima di arrivare al tuo rubinetto perde 34% chiediamo una commissione siamo uditi in comune perché il comune con la finanziaria è il maggiore azionista di SMAT nelle società private normale io che domino io comando sono io che dico come lo chiamiamo noi all'idraulico che cosa deve fare quindi abbiamo detto invertiamo gli investimenti prima pensiamo alle manutenzioni aggiustiamo i tubi e poi vediamo intanto recuperiamo il 34% di acqua questa è una mia impressione io sono una persona anziana fra un po' vado a dormire che è tardi sono in bicicletta però assistere in una commissione comunale dove hai i consiglieri che ti guardano un po' a sufficienza che guardano anche il cellulare e che ti dici ma svegliati perché è anche il tuo rubinetto che perde quindi è molto difficile come dire interloquire con l'amministrazione che dovrebbe essere quella locale è il primo elemento il primo rapporto che tu cittadino hai con l'istituzione con il pubblico è estremamente difficile ma io volevo solo darvi questa informazione sappiate che quando aprite il rubinetto il 34% se ne è già andato via l'Italia come media ha la perdita del 40% la media europea del 23% la Francia perde il 7% questa è l'idea capite come si ragiona però e concludo veramente è il grande investimento è la grande opera è la grande multi utility è IREN pensate che SMAT io faccio un mestiere per cui ho a che fare con i numeri è molto allettante IREN è lì come Snoopy sul ramo perché SMAT ha utili spaventosi chiudi bilanci con 52 53 milioni di euro di utile netto ma perché non perché abbia degli amministratori bravissimi perché l'utile la fa tariffa siamo noi che facciamo l'utile quindi vorrei che siete giovani e quindi che abbiate anche questa consapevolezza di come funziona il sistema idrico delle nostre parti grazie non so se ci sono altri interventi o domande chiaramente che fare è un po' quello che ci poniamo tutti i giorni dopodiché è un po' grande come domanda però se volete rispondere De Gaulle direbbe ci vorrebbe un vasto programma no allora guardate cioè una delle cose che bisogna anche cioè una delle cose che a me colpisce molto guardate io lavoro in una società privata lavoro su un sacco di robe di cui si è parlato qua mi ricordo la prima volta che c'era stato chiesto di fare degli studi ambientali nell'area della TAV ma ormai tantissimi anni fa mi ricordo che avevo incontrato alcuni dirigenti delle ferrovie i quali non volevano assolutamente fare la Torino-Lione perché il progetto originario delle ferrovie dello Stato era quello di fare Gioia Tauro Milano poi fare Torino-Venezia e poi utilizzare i due valichi del Sempione e del Brennero era la cosiddetta forchetta la chiamavano ok perché perché gli svizzeri avevano già fatto enormi investimenti su Gottardo su Lercher su tutte queste robe qua e gli italiani dicevano ma scusate ma perché dobbiamo fare un altro buco non ci serve a niente questa roba qua anche perché il gioco dell'alta velocità soprattutto quando si era pensato al trasporto delle merci era quello di accorciare i tempi di trasporto verso l'Europa per rendere i porti italiani più competitivi rispetto ai porti in Europa poi si può discutere moltissimo anche su questa roba qua quindi lo dico solo per come dire supportare ulteriormente quello che diceva quello che diceva Alberto cioè questa roba della Torino-Lione è in realtà il frutto malato del fatto che i politici e alcuni imprenditori torinesi hanno detto ma come noi chi siamo i figli della serva che non possiamo andare ed è partita è montata tutta questa panna qui ma addirittura all'inizio era addirittura contro l'opinione di chi diciamo così degli strateghi diciamo così delle ferrovie dello Stato che si erano pensati l'alta velocità dico due cose solo cioè c'è una come dire c'è un'antistoricità nella politica nella politica che abbiamo di fronte che è oramai clamorosa cioè veramente quello che diceva Alberto di nuovo lo cito in continuazione cioè guidano tutti guardando lo specchietto retrovisore fondamentalmente cioè non è neanche che non sanno usare il cambio del pullman nuovo guidano guardando lo specchietto lo specchietto retrovisore e cercano fondamentalmente l'ultimo giro di giostra cioè la verità è che la mia sensazione poi appunto guardando a queste robe io mi occupo di queste robe anche per lavoro anche lui in realtà poi cioè guardando queste cose è che veramente siamo di fronte alla fine di un mondo ok alla fine di un paradigma che era basato sulla crescita economica sul capitalismo che poi è diventato sempre più finanziario la gente anche ad alti livelli se ne rende abbastanza conto ma nessuno ha un modello alternativo nessuno ha idea francamente di che cosa fare e quindi ci si inventa l'ultimo giro di giostra tutte le robe che abbiamo sentito lo ski dome è l'ultimo giro di giostra dello sci perché poi dopo quello che cosa fai? cioè dopo che hai fatto la roba di plexiglass e ci hai messo dentro i criceti che come degli idioti vanno su e giù su 500 metri dopo cosa fai? francamente quindi oggi siamo di fronte secondo me veramente alla fine di una serie di paradigmi e questo è il discorso della crescita poi non l'abbiamo non l'abbiamo toccato il discorso del green wash il discorso del green guardate l'ultimo giro di giostra una decina di anni fa era quello della crescita verde cioè questa idea per cui noi possiamo far crescere l'economia facendola diventare verde e qual era il presupposto? il presupposto è che se io divento più efficiente ok e quindi uso meno risorse uso meno energia uso meno acqua uso meno cemento uso meno metalli vabbè a quel punto ho disaccoppiato la crescita dell'economia dal consumo di risorse e dall'inquinamento e va tutto bene e posso continuare a crescere perché toccare il paradigma della crescita è una roba che francamente nessuno se conoscete degli economisti fermateli e gli chiedete scusa ma se dovessimo smettere di che c'è un'idea di economia che non si che non si la questione della crescita verde tecnicamente non è fattibile cioè ci sono rassegne scientifiche che hanno passato ci sono articoli che hanno passato in rassegna 875 articoli scientifici che sono stati pubblicati pochi anni fa nessuno di questi articoli ha confermato il fatto che la crescita verde sia possibile al ritmo sufficiente per restare dentro i limiti planetari di cui parlava prima Alberto e lo cito di nuovo ok cioè questa roba qui ormai è sulle riviste scientifiche non è nella testa delle come dire degli estremisti dei no global di quelli che si facevano manganellare una generazione fa allora il problema vero però è che di fronte a questa roba qui il re è nudo ok nessuno sa più cosa fare veramente e quindi ci si inventa gli ultimi giri di giostra allora io non so bene che cosa fare però guardate ci sono cioè a un certo punto bisogna forse anche cominciare a lottare su queste cose utilizzando dei linguaggi che siano anche coerenti con i linguaggi di quelli che abbiamo di fronte nel senso che queste robe qui non stanno più in piedi da un punto di vista come dire economico economico cioè oggi c'è qualcuno in Italia che continua a menare il torrone con sta storia delle centrali nucleari allora io dico una cosa molto semplice trovate una banca che finanzi una centrale nucleare cercatela cercatela perché non c'è non esiste infatti poi questi vogliono le garanzie del governo altrimenti quella roba lì non si fa ma vi dico di più provate a trovare una banca che finanzi la TAV dice ma se è una roba così fantastica ma allora perché la gente non ci mette perché la banca non ci mette i soldi perché guardate oggi bisogna come dire il re è nudo ma ha ancora questa parvenza di bel vestito intorno che continua a utilizzare e secondo me uno dei sistemi ci sono molti modi per come dire spogliarlo ulteriormente far vedere che è effettivamente nudo ci sono i linguaggi diciamo che mettono in discussione complessivamente il paradigma che vanno benissimo perché va messo in discussione complessivamente ma anche se uno volesse restare oggi in un paradigma di capitalismo riformato queste robe qui non stanno più in piedi cioè lo schidoma anche lì io vorrei sapere se c'è qualcuno che mette i soldi ma non i soldi dello Stato che mette i suoi per fare quella roba perché se è una figata se è una roba che è così la vogliono tutti ma allora fallo tu ecco secondo me una delle cose che dobbiamo imparare a fare io credo che il lavoro che fa il movimento Notav è come dire utile anche in questo senso è che queste cose vanno messe in discussione anche come dire utilizzando gli strumenti della scienza gli strumenti della tecnica gli strumenti dell'economia perché oggi è abbastanza facile smascherare questo gioco e Torino qui finisco Torino guardate oramai è diventata una città che anche lì alla ricerca spasmodica dell'ultimo giro di giostra di fronte a un sistema politico e a un sistema imprenditoriale che non sa più dove sbattere la testa cerca solo i soldi pubblici con i quali fare gli ultimi giri di giostra guardate che è così noi abbiamo avuto negli ultimi anni il passante ferroviario le olimpiadi invernali la TAV Torino-Milano e poi la TAV Torino-Lione queste robe qui hanno messo in circolazione in questa città miliardi e miliardi e miliardi di euro negli ultimi 15 anni 20 anni e c'è un sistema politico che cerca la scusa l'occasione per fare ancora un giro di giostra bisogna smascherare anche questa roba qua ma ripeto ci sono milioni di ragioni ambientali e sociali per farlo ma ci sono anche delle solidissime ragioni economiche queste robe qui non stanno più in piedi Roberto mi ha alzato tante palle ma direi che se c'è una domanda allora non so se prego prego sentiamo la domanda ma allora innanzitutto ciao a tutti e tutte io mi volevo un po' ricollegare a questi ultimi interventi fatti anche un po' la domanda che è stata fatta poco fa non perché ho la presunzione di avere la risposta chiaramente ma come parte di una rete cittadina che si è creata la scorsa estate che si è posto un po' l'obiettivo di unificare le istanze ecologiche quelle sociali e ci siamo un po' posti l'obiettivo proprio sulla base delle cose di cui sono state discusse in questo momento in questo incontro di provare a concentrarci e prendere un po' la direzione dei prossimi mesi sulla questione della siccità e dello sperpe e dello spreco delle risorse idriche insomma la rete è quella del climate social camp e abbiamo un po' deciso di iniziare un percorso che vada in questa direzione la prossima settimana il 22 che appunto oltretutto la giornata sull'acqua faremo un'assemblea una conferenza dove saranno oltretutto presenti anche vari tecnici ed esperti della questione a cui siete invitati e invitate tutte e tutte quanti per poter un po' discutere delle problematicità che realmente stiamo già vivendo sulla nostra pelle nonostante questo non siano ancora realmente evidenti non perlomeno in città nonostante insomma già nelle montagne nelle campagne gli effetti siano devastanti già da mesi mentre invece noi ancora non li vediamo in modo così evidente anche se sarà sempre peggio poi andando avanti quindi noi ci stiamo un po' ponendo l'obiettivo di provare a creare una mobilitazione che sia sia cittadina che regionale per cui con l'intenzione di creare poi una rete che possa avere la forza di portare avanti la mobilitazione che possa avere appunto la forza di pretendere che soldi non vengono investiti in opere come è stato citato fino ad adesso che siano lo schiudo a Macesana ma che siano appunto opere come il TAV e mille altre che stanno venendo fatte in questo momento sul nostro territorio perché appunto riteniamo che unificare le varie stanze a livello perlomeno al momento regionale sia fondamentale per poter proseguire una mobilitazione che vada su questa linea quindi niente in realtà volevo solamente sottolineare come ciò di cui stiamo discutendo adesso sia estremamente rilevante e invitare poi tutti e tutte a partecipare alla prossima assemblea il 22 appunto per poter in università probabilmente è ancora effettivamente da definire però insomma verrà comunicato il prima possibile però per poter aperta chiaramente a tutti e tutte cittadini e cittadine per cui per poter un po' cercare di organizzarsi insieme e niente rilascio la parola quindi tornando alla domanda che fare io non posso che partire dalla situazione che conosco di più in valle di Susa nei territori del Tava abbiamo già cominciato a fare secondo me chi porta avanti questi progetti confida nel fatto che imponendo con la forza comunicativa mediatica con il coinvolgimento della politica nazionale regionale locale con la forza del coinvolgimento economico dei soldi e quando serve come il caso del Tavolo dimostra con la forza della violenza dell'imposizione delle opere dei cantieri qualcuno che abita in questi territori si spaventa e si faccia da parte noi abbiamo cominciato a non farci più da parte a cominciare a reagire su tutti i piani che ci consentono di discutere discutere dal punto di vista tecnico discutere in ambito politico e cominciare ad essere presenti fisicamente quando queste cose si tentano di realizzare questo porta ovviamente a una situazione oggettiva di conflitto perché il desiderio di chi porta avanti questi progetti riuscirà a realizzarli senza conflitto o riducendolo al minimo annichilendo chi queste situazioni le deve subire o chi le deve pagare dal punto di vista dei costi o dei danni il problema è che purtroppo visto che dall'altra parte non c'è molto ascolto l'unico strumento diventa il conflitto conflitto che si può coniugare in tanti modi politico sociale della discussione della comunicazione purtroppo quando la controparte decide di usare modalità non così urbane purtroppo diventa un conflitto che a volte rischia di essere teso ma ahimè questo è lo strumento che abbiamo allora io non sto dicendo di fare la guerra assolutamente noi vogliamo anzi molta pace e serenità e prosperità per tutti ed è forse questo il motivo per cui abbiamo deciso di lottare ma ahimè il conflitto è lo strumento non sono io a dirlo sono personaggi anche più importanti di me a dire che ad esempio quello che qualcuno ha deciso di mettere in costituzione come gli articoli che cominciano a parlare di giustizia intergenerazionale o tutela dell'ambiente sono strumenti da usare in termini di conflitto benissimo usiamoli cominciamo a aprire tanti piccoli o grandi conflitti in tutti i contesti in tutti i modi in cui riusciamo perché purtroppo il sistema del dialogo funziona e io ne sono un grande fautore ma bisogna essere in due per dialogare se l'altro soggetto si rifiuta di dialogare a questo punto non vedo tante alternative come aprire un sano conflitto dico solo una cosa ha citato la costituzione esiste la legge anche tortuosa incasinata tutto quello che avete ci sono due articoli del codice penale che parlano di danno ambientale inquinamento ambientale li si usa pochissimo li si usa pochissimo in Italia e bisognerebbe forse cominciare a creare una serie di casi perché poi ci sono anche situazioni come diciamo la Cassazione che a un certo punto impongono di fare determinate cose per cui io non trascorso ed è un conflitto quello anche abbastanza potente sul da fare a parte che io sposo l'ipotesi di estinzione ma comunque volendo essere ottimisti e volendo fare qualcosa allora sull'aspetto della normativa ad esempio noi come Salviamo il Paesaggio abbiamo elaborato una legge per l'arresto del consumo di suolo considerano che la Costituzione ha questo articolo 9 tra l'altro potentissimo perché è tra i primi 12 articoli della Costituzione quindi è un principio fondamentale tutelare il paesaggio e dell'ambiente nonostante questo però la legge ordinaria comunque almeno quella urbanistica e quella ambientale hanno disatteso questo articolo perché comunque riguardo all'urbanistica e all'edilizia sempre più negli anni è stata una normativa che è caratterizzata da deregulation dalla semplificazione ha allentato i vincoli di valutazione ambientale quindi è assolutamente e poi è molto contraddittoria ambigua e lascia spazio a interpretazioni mi viene in mente la legge 106 che è sulla rigenerazione ma viene usata anche per cementificare in realtà quindi uno strumento potrebbe essere una legge ma a prescindere da chi la propone che però prevede l'arresto del consumo di suolo non ad esempio la soglia che si dà all'Europa del 2050 di consumo di suolo zero tra l'altro netto al 2050 è una soglia che l'Italia non può sostenere perché se noi avessimo questo obiettivo ci mentificheremmo ancora mezza Italia quindi quello che va fatto è arrestare subito il consumo di suolo e lo strumento è avere una mappatura delle aree dismesse favorire la rigenerazione il riuso e poi impedire che il comune possa usare gli incassi degli oneri di urbanizzazione per le spese correnti cosa che oggi è ancora possibile perché la norma è vero che è cambiata ed è più ammorbidita ma comunque lo consente ugualmente quindi uno strumento potrebbe essere questo quindi seguire queste vicende attualmente questa legge è in un cassetto del Parlamento del Senato poi un altro strumento a livello locale potrebbe essere dovrà essere quello di seguire il nuovo piano regolatore che viene elaborato cioè Mazzoleni l'assessore sta elaborando il nuovo piano regolatore l'ultimo convegno a cui ho assistito lui ha detto che lo sta preparando con la consulenza di Bloomberg e come partner al Politecnico e le fondazioni bancarie a posto cioè mi sento tranquilla però il piano regolatore sicuramente sappiamo che l'ITER prevede uno spazio per i cittadini per qualunque cittadino in associazione per presentare osservazioni e quindi secondo me la presenza dei movimenti dovrà essere massiccia e anche abbastanza coordinata e forte se si può poi altra cosa velocissimamente la questione ambientale non va slegata dalla questione del debito del non ci sono i soldi è vero che molte trasformazioni urbanistiche avvengono per soddisfare gli interessi dei privati puramente quindi per ottenere consenso politico da vari soggetti privati però avviene anche tanto perché appunto i comuni cercano di incassare gli oneri di urbanizzazione perché sono indebitati cioè il debito di Torino è talmente elevato quasi 3 miliardi che lo mette in condizione di avere poca qualunque amministrazione ha poco margine di forse nessuno cioè pochissimo comunque margine di manovra però il debito in realtà poi ad esempio c'è un movimento qui a Torino c'è stato prima Sembra 21 adesso c'è debitò che hanno analizzato molto questo aspetto scoprendo che in realtà questo debito molto è illecito e comunque ingiusto ad esempio tutto quello che viene tutti i decine di milioni ogni anno per i derivati che sono contratti speculativi hanno scoperto che i mutui che gli enti locali in Torino pagano sono al 4-5% anche in momenti in cui fino a poco tempo fa i tassi di interesse erano allo zero quindi dei soldi sprecati ma delle cifre enormi o clausole vessatorie con le banche quindi il comune è piegato totalmente agli interessi della banca seguire questa questione qui parallelamente è importantissimo e un esempio è la campagna di ATTAC che sta facendo che si chiama Riprendiamoci il comune che ha lanciato appunto una campagna per presentare due leggi di iniziativa popolare una propone la risocializzazione della Cassa Depositi e Prestiti perché prima che fosse SPA la Cassa Depositi e Prestiti finanziava gli enti locali a tassi non di mercato ma a tassi agevolati l'altra legge di iniziativa popolare è sulla finanza pubblica degli enti locali e propone che non ci sia solo il bilancio finanziario economico ma che sia obbligatorio per l'ente locale introdurre il bilancio ambientale e sociale volevo in qualche modo riallacciarmi alla questione appunto posta prima dalla signora che peraltro ci conosciamo ma non mi ricordo riguardo riguardo alla questione appunto della siccità e delle perdite degli apedotti e nel contempo volevo anche rispondere a te quando dici che cosa si può fare a livello locale e soprattutto a livello individuale possiamo fare quello che vogliamo io scrivo so benissimo che non serve a niente ma lo faccio lo stesso perché è un dovere di carattere morale e a livello di piccoli comuni magari si può fare ancora qualcosa ma a livello globale in Italia come del resto all'estero secondo me non si può fare assolutamente nulla per il semplice motivo che il potere politico rispecchia il potere economico quindi nel momento in cui tu hai un potere economico molto forte nel campo delle costruzioni chiaramente il potere politico non potrà fare che andare incontro all'esigenza di quel potere però riallacciandomi al discorso dell'acqua noi sappiamo benissimo che buona parte dell'acqua va ad esempio agli allevamenti intensivi di mucche di maiali poi anche in meno per conigli eccetera ovviamente si dovrebbe intervenire anche in questo campo chiaramente appunto bisognerebbe intervenire sia sulle perdite degli aquedotti e invece si preferisce pensare a fare un piacere alle costruzioni al partito delle costruzioni realizzando magari l'invaso di Moiola o l'invaso di Comba Nera a Viu piuttosto che intervenire appunto sul sottoterra perché non lo vede nessuno e il partito delle costruzioni non ha molto da mordere così come nel campo appunto agroalimentare bisognerebbe appunto ovviamente intervenire perché l'acqua non finisse tutta o quasi tutta praticamente nei campi di mais per poi andare ad alimentare appunto mucche e maiali però tu politico una volta che sei lì ti vai a mettere contro il partito agroalimentare significa 30 miliardi di euro in Italia attualmente tanto è vero che in Emilia Romagna chiamiamola pure anche se è improprio chiamiamola con governo rosso stanno realizzando 40 invasi che sono ovviamente voluti dalla confagricoltura per venire incontro appunto ai problemi della siccità quindi sempre legato al partito delle costruzioni e al partito agroalimentare non cambierà mai niente assolutamente non c'è possibilità che cambi qualcosa finché non crolla il partito il partito economico ecco a cui il partito politico non fa altro che rifarsi sì che fare io vado più nel picco in Valle di Susa facciamo sempre tantissime cose e a piccoli passi magari un po' l'abbiamo inceppata la grande opera anzi siamo sicuri che l'abbiamo inceppata qua nello specifico ritorniamo sulla cava di Casellette in cui abbiamo fatto già da un mese e mezzo informazione abbiamo fatto un momento di mobilitazione il 18 febbraio e adesso il 18 marzo che è di nuovo un sabato alle 15 faremo un altro momento di mobilitazione intorno alla cava l'appuntamento appunto è per le 15 in cava senza dover fare la passeggiata come l'altra volta ci si trova direttamente lì il motivo è intanto andare a vedere a che punto sono i lavori ma è quello di far pressione far pressione dove ci sono questi cantieri lo faremo anche martedì a San Didero dopo la pericena con una battitura intorno al cantiere e il punto è servono queste cose e cosa ci portano ci portano che il fastidio che noi diamo ad ogni cantiere che loro mettono in piedi e il loro bisogno comunque di fortificarlo e difenderlo è un problema grosso per loro e qui il punto sta a chi resiste un minuto in più nel senso che chi ha voglia di stare a difendere il cantiere e chi ha voglia di difendere la terra io sono convinto che noi resisteremo un minuto in più Scusate dico una cosa velocissima anch'io allora il comitato cioè volevo parlare anche del fatto alla risposta che fare cioè quello che noi facciamo è opporci opporci con tutti gli strumenti che abbiamo e questi strumenti sono sia di lotta sia quelli giuridici nel senso che abbiamo provato a costituirci parte civile nel procedimento penale contro l'amministrazione comunale poi vabbè non è andata bene però comunque la cosa è che gli strumenti giuridici ci sono sono attuabili e servono e noi dobbiamo cominciare ad usarli cioè dobbiamo cominciare a fare le cause ambientali tra l'altro l'Unione Europea con la sentenza legata al caso ILVA ha proprio condannato l'Italia ha obbligato l'Italia a trovare degli strumenti legali che garantissero ai cittadini di avere un accesso diretto alla giustizia in tematiche ambientali quindi c'è pendente l'esecuzione di questa sentenza in cui l'Italia è obbligata a trovare questi strumenti giuridici pena altre sanzioni poi è pendente vedremo come andrà comunque la cosa che ci deve muovere tutti è non un metro di terra in più cioè basta nel senso adesso veramente basta ci opponiamo con tutto quello che abbiamo e con tutti i nostri corpi e questo è quanto provo a tirare un po' le fila di queste due rette di conversazione che sono state estremamente ricche ma appunto proprio perché questa problematica è così diffusa ovviamente anche la biodiversità di lotte che cresce è ovviamente parallela quindi questo sicuramente è un bene il discorso che noi in realtà ci siamo un po' fatti anche proprio alla luce degli ospiti che abbiamo invitato era quello che si lega alla vivibilità della città cioè in questi in questi periodi qua in questi in questi anni ovviamente le città come è stato già detto prima risultano essere dei luoghi che sono sempre più inaccessibili a ondate di calore e quant'altro ma anche appunto le montagne le valli sono in ginocchio sia da un punto di vista appunto più climatico ecologico ma che poi si riflette inevitabilmente nelle economie e quindi riguarda anche delle trasformazioni economico-sociali che devono essere poi evolute proprio la faccia di fronte a questo problema in contrapposizione a questa problematica qua ovviamente la controparte come abbiamo visto non fa altro che poi andare ad erodere tutto quello che è invece c'è ancora di respirabile se vogliamo in città che ci permetta ancora di vivere in dei luoghi ancora un po' più climatizzati vivibili appunto dalla gente sia in città che poi in montagna ecco troviamo veramente assurdo che questa trasformazione vada sempre più in una direzione distruttiva che ci impedisce effettivamente di poter vivere di scegliere come vivere bene di poter respirare bene di non dover per forza andare a farci la gita in montagna quando poi questa sarà abitata sarà distrutta da opere inutili appunto che non hanno poi nessuna logica e nessuna utilità alla costruzione di queste alternative che vanno ad accaparrarsi il suolo come se fosse una merce quando di merce in questi casi non si può parlare quando appunto questo è il suolo è un bene di tutti e tutte e che viene poi svenduto in particolare poi dalle appunto abbiamo visto il ruolo delle istituzioni che assolutamente come sempre affiancano la scia economica capitalista di accumulazione ecco troviamo che soprattutto adesso ci sia effettivamente da difendere quei territori quei terreni che rimangono ancora vergini come è stato detto appunto prima difenderli con i denti subito sicuramente le vie dato che non c'è tanto tempo insomma devono essere abbastanza celeri e appunto niente io concluderei un po' qui rimando all'eventuno c'è la proiezione del film La Scelta quindi tra poco ci ritroveremo di nuovo qui ringrazio tutti e tutte per essere intervenuti e per essere venuti qua questa sera grazie grazie grazie